Ciao a tutte sono Carla, questa volta sarò io a presentarvi degli spunti per il nuovo Natale che sta arrivando. Abbiamo pensato a dei fiori in pannolenci, dei fiori in velluto termomodellabile e delle palline in velluto realizzate con la tecnica del patchwork da utilizzare come segnaposto o centrotavola. Ora io ed Eleonora vi daremo delle indicazioni generali su come realizzare questi progetti. Buon Natale a tutte e buon lavoro! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!